Bersani, le facciamo vedere due foto che ormai l'hanno resa, come dire, celebre in Italia e nel mondo e sono queste. Una è stata scattata nel 2012 davanti alla sua celeberrema birra e l'altra è una birra più recente. Noi però abbiamo individuato che è questo signore che ha fatto questo scatto furtivo. Quello là del 2012. Quello del 2012. Accidenti. E l'abbiamo preso, l'abbiamo assunto in redazione da noi, ma per caso? Non lo sapevamo, non lo sapevamo. Eccolo lì, Luca Sappino, che peraltro neppure ha venduto i diritti. Ecco, lo possiamo inquadrare, caro Corbella, la regia? Ecco, questo signore qui, uno dei nostri inviati, ha fatto quel famoso scatto. Che roba. E non l'avete neanche pagato bene. Niente, nulla. Però poi Libero adesso ha fatto come titolo altra birra per Pierluigi Bersani. Quindi ogni volta che questo uomo offre una birra... Esatto. Quando bevo il caffè non gliene frega niente nessuno. Vabbè.